Eh, si, la road to division 1, vai sigla Ce la possiamo ancora fare ragazzi, abbiamo 7 punti, 5 partite rimaste 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte Benissimo, nelle ultime puntate lo sclero era con me E di sicuro oggi ci sarà, ci sarà Ma noi ci proviamo lo stesso, l'importante prima di tutto è salvarci Almeno ci confermiamo in divisione 3 Cazzo sputo come un cammello schifoso E poi ragazzi, vediamo, dobbiamo vincere 4 partite su 5 Almeno, speriamo Primo avversario Avversario trovato subitissimo, incredibile Ok, è una squadra inglese A 100% di intesa La valutazione 83, quindi è identica alla nostra squadra Alla fine la valutazione è l'intesa A De Bruyne, De Pai, Quadrado, Shakira, Shakira, Waka Waka, Beyerin, Company, Otamendi Se non sbaglio ragazzi non mi ammazzate E poi non sono riuscito più a leggere Però l'importante è vincere Ok Ok Benissimo Provaci Marchisio 1-0 che gol Marchisiettino mio Sei proprio bianconero nel sangue Sei bianconero 1-0 Ma Attenzione Non è finita qui Lo sapevo Già me ne ero accorto dal passaggio del difensore Già me ne ero accorto 1-1 Ok Ok Benissimo Vai Iguain Mamma mia Oh ma che è questo Questo non è Iguain Questo è Panzotin Questi giocatori veloci baggati Passato da solo Ha passato Volevo rinviare Mamma mia che azione Mamma mia che azione Mamma mia che azione Mamma mia che coglione Ma perché Iguain sembra un panzone schifoso Finisce il primo tempo Pochissime occasioni Forse solo i due tiri del gol Ma va benissimo così Davvero una partita equilibratissima E bravo il nostro avversario a difendere E bravo il nostro avversario a difendere E poi lo perdo Lui prende il pallone E poi lo perde Proviamo qui Proviamo qui Forza Forza finta Ci infiliamo Salah 2-1 2-1 2-1 Secondo tiro in porta Secondo gol Lui un tiro in porta Un gol Bellissima partita Il primo che tira in porta vince E segna Mamma mia Oh Quello è fallo Mettila in mezzo corta Ok Perché non è andato Perché non è andato in signe Oh mio dio Doveva solo toccarla Vai col colpo di testa Va benissimo Iguain Il tocco è ottimo Ancora un passaggio Iguain Che ci mette mezz'ora per tirare Il portiere para Mamma che bella parata ha fatto qui Vai così Benissimo Guardalo Vai Ok saltiamo l'avversario Vai Vai Più veloce della luce Più veloce della luce Più veloce della luce Tira Porco Giuda Con Iguain Non riesco raga È troppo lento Dai 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 Forza Lorenzo Scatta Mamma mia Lorenzino Il gol della merda Va a cagare 3-1 3-1 Mamma mia che partita Onore al nostro avversario Anche se Fa sempre contropiedi Solo quelle sono state le sue azioni Un tiro da Da lontano Niente di che Non ci ha messo per niente paura 3-1 Meritatissimo Sta per finire Attacca il nostro avversario Andovai 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 Finisce ragazzi La prima partita di oggi È stata vinta Con davvero tantissimi problemi Tante difficoltà a segnare Tante difficoltà a costruire Sia per me Sia per il mio avversario Ma alla fine Il risultato È giusto 3-1 Per noi In poche occasioni Andiamo nella seconda partita Speriamo di costruire di più Siamo arrivati a 10 punti La prossima partita Se la vinciamo Arriviamo a 13 Eh E anche questo Lo abbiamo trovato subitissimo Allora Squadra Non lo so Non lo so È Un'ibrida Ragazzi C'ha un po' di giocatori Che militano Nella squadra inglese Alcuni Nel campionato francese Alcuni Nel campionato Tedesco Quindi È un'ibrida È un'ibrida Ma Adesso Niccolo Club Deve perdere O Niccolo Senza 100 sulla O Vabbè Vinciamo Ok 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 Toccala Toccala Benissimo Stiamo già andando benissimo Il tocco è buono Vai 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 1-0 Dopo 2 minuti e 20 Come la partita precedente Questa volta è Caheon E L'FC Dark Knight È in vantaggio Subito Un bel passaggio di Marchisio Deviata da David Luiz Riesce ad inserirsi lo stesso Caheon Ed è il gol dell'1-0 Vai 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 Lorenzino Mettila Che è sto cross Che è sto cross Perché questi cross Da dove Arrivano Oh mio Dio Sto lag Non ti fa capire Se il pallone entra Ah Ma sta laggando troppo Ragà Sta laggando troppo Non sto capendo niente Non riesco a controllare I giocatori adesso Ecco guardate Beh adesso ho avuto fortuna Adesso ho avuto fortuna Mi ha sbattuto su Attenzione Iguain 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 Finta Non la fa proprio la finta Oh Vai 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 E so tre occasioni Bravo Insigne Bravo Insigne Vai 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 Gol Fuori gioco Madonna E so quattro Andiamo avanti In venti minuti Attenzione Attenzione Che dai giocatori Molto ma molto forti Non fate tirare Vidal Cervinio 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 Finta Cervinio Finta Cervinio Ancora Cervinio Scivolata Caccia 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 l'espulsione Adesso Caccia l'espulsione Adesso O gli dai l'ammunizione Solo quando li faccio io Mi dai l'espulsione Ecco ammonito Ma va a fare Inca Faccio di punizione Alexandro Palla che gira Vai Iguain 2-0 Te lo meriti Alla quinta occasione Arriviamo al secondo gol Iguain Di testa Non perdona Questa partita È già stata risolta Douglas Costa Douglas Costa Attenzione Ci prova a saltare La metta in mezzo Lish Steiner Niente di che Oh Vabbè Finisce il primo tempo Super vantaggio per noi Il nostro avversario Non è stato pericoloso Andiamo a fare altri gol Cerchiamo di farlo Quittare velocemente Ok Insigne Finta d'Insigne Ancora Dalla veloce Dalla veloce Gol annullato Ed è il secondo Oh mio dio Perché non la dà veloce Perché lagga ragazzi Quindi Lo dà in ritardo il passaggio Occhio Attenzione alla casette La casette Attenzione Gol 2-1 Primo tiro in porta Vabbè Ma ci sta ragazzi Ha fatto un bel tiro Dai Ci sta 2-1 E dai Cambiata la partita Il nostro avversario È riuscito Già a tirare Due volte in porta Assurdo Sempre così Oh Ma tutti quanti Oh Vai Ok Gervinio Gervinio La fa girare Colpo di testa Che come ha parato Come l'ha parata Ok Saltiamo l'avversario Kaionna Spazio il tiro Traversa Benissimo Bene Bene Ok E vabbè Oh Oh Tira Va bene Va bene Va bene Va bene Gonzalo Higuain 3-1 3-1 Anche in questa partita La meritavamo La vittoria Eh Occhio 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 Tutti da fuori Li fa Cioè lui tira da lontano E segna Fine Questi sono state Sono stati Tiri in porta Il nostro avversario Ma va cagava 3-2 Ma ha messo pure start Cosa ha fatto Cosa ha fatto Fallaccio con Vidalla Senza palla Dagliela L'espulsione Adesso Oh Ciao Ciao Dai 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 Kaion 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 Mo tiro io da qui Traversa Io prendo le traverse Che ragazzo Ho segnato Gesù sia lodato 4-2 Signori Anche Questa partita È stata conclusa Con davvero Madonna se pareggiavo Madonna se pareggiavo Mamma mia Se pareggiavo Eh Chissà segna Per la terza volta Finisce ragazzi Finisce Vittoria Super meritata Il nostro avversario Non meritava Neanche Il secondo gol Va bene una volta Ma due volte Da lontano Azzeccare il tiro Non è bravura Ma è script Va bene ragazzi Siamo arrivati a 13 punti Abbiamo 3 partite Ne possiamo vincere 2 E una perderla E siamo in divisione 2 Poi cercheremo sempre Di salire Ragazzi se volete supportare Questa serie Prima che inizi La serie su FIFA 17 Continuate a spolliciare A supportare Con tanti bei pollicioni in su L'Ultimate Team E noi ci vediamo Ci becchiamo In un prossimo video Ciao a tutti Da PierreDarkNight91 Un prossimo video